Lezione 2. La cellula prokaryote e i virus. Quali sono i tre principali componenti di una cellula? Come è fatta una cellula prokaryote? Che cosa sono i virus? Di che cosa ha bisogno un virus per riprodursi? Le strutture fondamentali della cellula sono la membrana plasmatica, il citoplasma e il materiale genetico, DNA. La cellula prokaryote tipica dei batteri è priva di nucleo, ha una parete esterna, talvolta una capsula e spesso un flagello e i pili. È priva di organoli cellulari fatta eccezione per i ribosomi. I virus privi di struttura cellulare sono costituiti solamente da un acido nucleico e da un rivestimento proteico detto capside. Essi sono in grado di replicarsi solo all'interno di cellule ospiti. Struttura generale delle cellule. La cellula, per quanto piccola, possiede una struttura complessa e finemente organizzata. In ogni cellula è possibile individuare tre componenti fondamentali. La membrana plasmatica che circonda la cellula e la separa dall'ambiente esterno. Il citoplasma o citosol che si trova all'interno della membrana plasmatica ed è costituito da una sostanza di aspetto gelatinoso nella quale sono immerse specifiche strutture, gli organuli cellulari. Il materiale genetico, DNA, che può trovarsi libero nel citoplasma o all'interno del nucleo. Una struttura separata dal citoplasma mediante una membrana. La membrana plasmatica, il citoplasma e il materiale genetico sono le tre componenti fondamentali della cellula. In base alla complessità strutturale si possono distinguere due tipi cellulari. La cellula prokaryote è la cellula prokaryote. La cellula prokaryote è considerata il tipo cellulare più primitivo e si ritrova unicamente nei batteri, con molta probabilità a una struttura simile alle prime cellule comparse sulla Terra. Gli organismi caratterizzati da questo tipo di cellula sono tutti unicellulari e vengono chiamati prokaryoti. La cellula eucariote è più grande, complessa ed è tipica dei protisti, funghi, piante e animali, i cosiddetti eucarioti. Gli eucarioti possono essere sia unicellulari che pluricellulari. La cellula prokaryote. La cellula prokaryote dal greco pro, prima, è cario nucleo a un diametro medio compreso tra 0,5 e 1 micrometro, 10 volte inferiore a quello di una cellula eucariote. La principale differenza tra questi due tipi cellulari è che la cellula prokaryote non presenta un nucleo delimitato da membrana. Il DNA, che è circolare a singolo filamento, è localizzato in una zona del citoplasma chiamata nucleoide. Talvolta sono presenti piccole molecole di DNA accessorio, dette plasmidi. La membrana plasmatica che racchiude il citoplasma è circondata esternamente dalla parete cellulare, una struttura rigida con funzioni di sostegno e protezione. Alcuni batteri hanno anche un sottile involucro, detto capsula, che circonda la parete cellulare. Nel citoplasma si trovano in soluzione numerose sostanze, come ioni ed enzimi, e sono presenti granuli formati da molecole di riserva. Gli unici organuli presenti nella cellula prokaryote sono i ribosomi, dove si svolge la sintesi delle proteine, mentre sono totalmente assenti gli organuli delimitati da membrana presenti nella cellula eucariote. La cellula prokaryote priva di nucleo è il tipo cellulare più primitivo e caratterizza gli organismi prokaryoti. Alcuni prokaryoti sono dotati di appendici proteiche filamentose, i flagelli, che ruotando come eliche consentono loro di muoversi in ambiente acquoso. Alcuni prokaryoti hanno sulla superficie numerose strutture filamentose più corte dei flagelli, dette pili, che servono a mettere in contatto tra loro i batteri o a far aderire i batteri ad altre cellule, per esempio in caso di infezione. I virus. I virus rappresentano l'unica eccezione alla teoria cellulare. Sono entità prive di organizzazione cellulare, non svolgono attività metaboliche, non sono in grado di nutrirsi e di crescere e non sono neppure capaci di riprodursi autonomamente. Infatti, nonostante possiedono l'informazione genetica per la riproduzione, i virus sono privi di enzimi in grado di duplicare l'acido nucleico o di svolgere la sintesi proteica. Fuori da una cellula i virus sono totalmente inattivi e per moltiplicarsi devono necessariamente utilizzare la struttura e le risorse di una cellula ospite, che può essere un batterio, un fungo, un vegetale o un animale. Per questo motivo sono definiti parassiti, endocellulari e obbligati. I virus sono entità prive di organizzazione cellulare che utilizzano i sistemi enzimatici della cellula ospiti per replicarsi. I virus hanno dimensioni estremamente ridotte, mediamente da 20 a 300 nanometri e sono costituiti semplicemente da un acido nucleico e da alcune proteine. Hanno una struttura talmente semplice da essere considerati al confine tra il mondo vivente e il mondo non vivente. In ogni singola unità virale, detta virione, si riconoscono fondamentalmente due soli elementi, l'acido nucleico e il suo rivestimento. L'acido nucleico può essere DNA o RNA, a singolo o a doppio filamento, lineare o circolare. Il rivestimento proteico è detto capside e in alcuni virus può essere circondato da un ulteriore involucro lipidico. Ogni virione è costituito da un acido nucleico DNA o RNA e da un rivestimento proteico detto capside. I virus sono estremamente specifici e generalmente infettano un solo tipo di organismo. Una volta infettata una cellula, il virione può controllare nel metabolismo e utilizzare il suo sistema enzimatico per riprodursi. In alcuni casi il virus non uccide l'ospite, ma integra il proprio acido nucleico in quello della cellula parassita, utilizzando il cosiddetto ciclo disogeno. In altri casi il virus non si integra nel DNA dell'ospite, ma si moltiplica immediatamente dando origine a un elevato numero di virioni. Queste nuove particelle virali fanno scoppiare la cellula e vanno a infettare cellule vicine. In questo caso si parla di ciclo litico. Grazie. 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 Grazie.